Allora, prima di tutto credo che sia doveroso e opportuno fare i complimenti al Napoli e a Luciano Spalletti perché questa sera, di là del risultato che non è che parla chiaro ma parla chiarissimo abbiamo veramente avuto una dimostrazione di superiorità e di forza che sono sincero non mi aspettavo non perché fossi matto, non perché sopravvalutavo la Juventus o sottovalutavo il Napoli ma perché ero abbastanza sicuro che comunque la partita sarebbe stata più equilibrata ripeto, non perché volessi sopravvalutare la Juve perché tutte le volte che la Juve ha fatto delle brutte partite ce lo siamo detti faccia a faccia senza tenerci dentro niente e anche le ultime due partite, lo abbiamo detto, sono arrivati i tre punti, i sei punti ma c'erano tante cose da sistemare e quelle stesse prestazioni non potevano essere sufficienti per affrontare una squadra come il Napoli però ero convinto che dentro lo scontro diretto, dentro uno contro uno dentro una partita di calcio ci potesse essere qualcosa di più da parte della Juve e forse qualcosa di meno da parte del Napoli perché tutti, io mi aspettavo un pareggio questa sera quindi sicuramente il mio pronostico è stato abbondantemente sbagliato però credo che tutti ci si è resi conto di una cosa due cose la prima è che ovviamente il calcio di proposta di Luciano Spalletti questa sera ha completamente distrutto, disintegrato e spazzato via il calcio di contenimento di Massimiliano Allegri perché si affrontavano una squadra che faceva dell'attacco una squadra che faceva delle difese, punti di forza la Juventus si presentava come miglior difesa e stasera ne ha presi cinque e non prendeva cinque gol in Serie A la Juventus dalla stagione 92-93 mi pare di aver letto mentre guardavamo un po' la partita di aver googlato Pescara-Juventus 1-5 5-1 in gol per il Pescara anche Massimiliano Allegri su rigore questa cosa è abbastanza curiosa e penso di poterla dire almeno cerchiamo di ridere in maniera amara di qualche coincidenza ma la seconda cosa che secondo me è da sottolineare è che nel momento forse migliore della Juventus e cioè verso la fine del primo tempo dopo che vai sotto di due e decidi di abbandonare la partita bloccata a livello tattico che avevi scelto per cercare di affrontare il Napoli dove sei venuto fuori con le tue caratteristiche con un po' le tue cose migliori che bene o male sono i discorsi che abbiamo già fatto tante volte in questa stagione fargli uno in più o in meno non cambia ma ciao nuovamente cioè che questa squadra non è fatta per andare solo all'indietro è fatta anche per andare in avanti soprattutto per andare in avanti perché di potenziale quando si sgancia ne ha tanto soprattutto con il ritorno di Chiesa l'abbiamo visto in quei pochi minuti in cui la Juventus è rimasta sotto le due reti nel primo tempo dove prima la pareggia poi prova prima la corcia poi prova anche a pareggiarla però lì l'inerzia della partita te la sei portata dalla tua parte perché è vero che sei ancora sotto però Napoli si è reso conto di non essere invincibile di poter avere ancora delle difficoltà anche contro una squadra come la Juve che propone poco ma che quando sceglie di provare ad andare oltre i suoi standard la differenza la può fare perché i giocatori ce li ha ed è una scelta quella di rimanere così cauti contenitivi agganciati dietro a volte passivi a volte bassi è una scelta è una scelta lo sappiamo però in quel momento lì Napoli va nello spogliatoio e dice cavolo ero sopra i due però questi sono un leone che non vuole morire in gabbia e lotta per avere salva la vita la Juve dall'altro canto va nello spogliatoio e dice avete visto basta poco basta una giocata anche loro sbagliano cerchiamo di concretizzare le palle gol cerchiamo di aumentare il giro del motore ancora di più cerchiamo di mettere in difficoltà invece il Napoli rientra in campo e oltre a un sistema di gioco rodato consolidato oliato conosciuto efficace bello Napoli ha aggiunto la mentalità ha aggiunto la mentalità che è sempre stato un po' quello che faceva la differenza nelle sfide tra Napoli e Juve perché in questo ciclo di scudetti di successi Juve gli ultimi dieci anni di calcio in Italia se vado a riassumerli all'osso è una Juve che vince spesso e volentieri perché comunque le rose erano superiori con magari in campo alcune lacune alcuni dubbi si poteva fare di più si è andati a fare il minimo perché si voleva concentrare su altro perché non si era capaci perché si voleva fare così mille domande e invece un Napoli che sicuramente dimostrava di più dentro il campo ma la Juve che mentalmente era ferrea e ti vinceva lo scudetto tutti gli anni ti vinceva la coppa tutti gli anni e in Champions stava avanti tutti gli anni e la differenza stava lì sul fatto che comunque loro giocavano un calcio migliore del tuo ma tu eri più forte dentro la testa ora è annullato anche quello è annullato anche quello non hai più nulla a cui aggrapparti perché il Napoli è più bravo di te sul campo perché il gioco del Napoli è più efficace del tuo e nello scontro rietto l'hai visto e perché tu ti sei sciolto perché il Napoli ha meritato stasera ha super meritato e anche nel primo tempo c'era più Napoli che Juve nonostante il piccolo picco di reazione che ha provato a far vedere la squadra di Allegri era comunque un primo tempo in cui il Napoli meritava di essere in vantaggio assolutamente sì nonostante un pochino di orgoglio tirato fuori dalla Juve però poi quel secondo tempo lì è un insieme di cose significa che tu sei morto mentalmente e che loro si sono galvanizzati e significa che lato campo loro hanno dato più di te perché quello lo sapevi già dall'inizio ma tu hai dato ancora meno di quanto potevi dare perché questa sera non si sono nemmeno mantenuti gli standard qualitativi minimi indispensabili che abbiamo visto in più occasioni e non vi sto parlando delle partite con l'Ecce la Cremonese l'Udinese sto parlando degli approcci che si sono tenuti con partite più importanti come quella con l'Inter quella con la Lazio o quella col PSG in casa all'ultimo turno di Champions dove si hai perso ma ci sta che tu possa perdere perché comunque gli avversari sono più bravi di te ma tu quello che solitamente sei bravo a fare o che vuoi fare o che metti in campo lo fai e poi si perde qui si è andati oltre io non so nemmeno dirvi se sono arrabbiato deluso scontento sicuramente non sono felice sono molto triste abbattuto rassegnato amareggiato ma non sono depresso da questa cosa perché che il Napoli fosse più forte della Juve lo sapevo e tante volte mi sono ritrovato nei commenti di persone che mi dicevano vabbè ma lo fai per guffarla certo il gioco c'è è divertimento fa parte dello sfottoma quando poi cerchi di parare seriamente di calcio chi è il matto che ti dice che questa Juventus anche prima di questa partita poteva considerarsi al livello del Napoli o vicino al Napoli o più forte del Napoli io credo e spero nessuno o almeno nessuno di serio e prenderne cinque prenderne cinque è pesante perché stasera non hai lasciato solo tre punti al Napoli non hai lasciato solo la vetta della classifica non hai solo evitato di farti accorciare non gli hai solo evitato di accorciare la classifica gli hai gli hai dato un boost in primis perché la vittoria anche per 1-0 al novantesimo il Napoli avrebbe dato un boost di fiducia ma gli hai dato una consapevolezza di essere una squadra troppo più forte e quindi io non so quanti punti potrà perdere per strada questo Napoli ma soprattutto la paura grossa che ho è che questa sconfitta grossa pesante in cui ho rivisto alcune cose delle partite precedenti al blocco delle otto vittorie consecutive cioè giocatori che si mandavano a cagare tra di loro che in campo piuttosto non ce lo metto il piedino perché tanto è persa perdere perdere si può perdere è legittimo perdere fa parte del gioco fa parte dello sport fa parte della vita però straperdere e fare queste figure non ci sto perché poi queste figure ti entrano qui come un tarlo e noi sappiamo che questa Juve non è che domani allegri perché ne ha presi 5 si ritrova al centro sportivo la continassa mette tutti in cerchio gli dice ragazzi mea culpa ho sbagliato la squadra deve giocare a calcio per raggiungere i risultati allegri va avanti così domani andrà avanti così porterà a termine la stagione con il suo credo calcistico e non lo smuovi più non lo cambia è fatto così e andrà avanti così però se iniziamo a perdere anche quella cosa che è l'unica cosa che ti può aiutare barra salvare nei momenti di difficoltà e anche negli scontri diretti con squadre superiori e cioè la voglia di lavorare prima sul pallone la voglia di lavorare prima sulle seconde palle la voglia di vincere le partite la voglia di giocarla fino all'ultimo la voglia di non tirare mai indietro la gamba e soprattutto la certezza di poter fare certe cose è un po' quello che vi sto dicendo da un po' di giorni a questa parte un po' di mesi a questa parte io quando sento che Allegri in conferenza mi dice la Juve quest'anno lotta per arrivare nei primi quattro io non lo posso accettare ragazzi perché poi questo è il messaggio che passa sì in pubblico magari non è quello che dice uno spogliatoio ma il giocatore a conferenza l'ascolta c'è una cassa di risonanza mediatica enorme il giocatore lo ascolta il giocatore lo sa lo sente hai sentito cosa ha detto Allegri hai sentito il mister basta arrivare nei primi quattro uno dice ma arrivare nei primi quattro è anche arrivare primo sì ma quel messaggio lì quel messaggio lì non va bene perché la Juve il secondo il terzo il quarto il quinto il sesto il settimo l'ottavo il nono il decimo posto è uguale è uguale è uguale perché andiamo a giocare una coppa piuttosto che un'altra e quindi più soldi meno soldi è una roba societaria è una roba economica ma la Juventus finché si indossa la maglia la Juventus bisogna giocare per vincere per raggiungere il risultato massimo che può non arrivare ma bisogna giocare e raggiungere il risultato massimo e pensare e ragionare giorno per giorno per raggiungere il risultato massimo e basta e basta quindi stasera l'analisi della partita è quasi superflua cioè chi è che può mettersi qui a parare la partita hanno avuto un dominio territoriale nel primo tempo vergognoso perché il pallino del gioco l'hanno tenuto sempre loro non hanno avuto la capacità di concretizzare chissà quanto occasione nel primo tempo quelle poche che avevano l'hanno buttate dentro nel secondo tempo ne hanno sprecate anche più del dovuto potevano farcene sette otto tranquillamente e noi staccato completamente la spina noi proprio ma mica sul 5-1 sul 5-1 io capisco che tu possa staccare la spina ma tu prendi gol al 55esimo al 65esimo al 72esimo quei 20 minuti lì di follia totale blackout in cui ne potevi prendere anche altri nel mezzo ma come me li giustifichi cioè hai voglia a dire la Juve gioca male questo 5-1 non lo prendi perché la Juve gioca male comunque non solo per quello 5-1 lo prendi perché stasera qualcosa palesemente non ha funzionato che ora non significa buttare via tutte le otto vittorie che non è che questo 5-1 pesa più delle otto vittorie sicuramente ha un peso specifico molto importante perché affrontavi la prima vera grande squadra grande grande il campionato italiano se riesco anche il Milan per cortezza perché comunque è il campione in carica ma sono Milan e Napoli due squadre bene o male in questo momento che possono veramente probabilmente dirla loro in Serie A e il Milan in questo momento sta affrontando anche un momento un po' così Juve Inter Roma Lazio sono tutti in un calderone di seconde barra terze linee che sta dopo il Napoli che è in prima posizione e il Milan che ripeto lo metto per rispetto perché sono i campioni in carica questa partita questa partita si porta dietro tante altre cose secondo me e si porterà dietro tante altre cose questa è una partita che secondo me non è finita qua l'ha vinta l'ha stravinta Spalletti l'ha vinta l'ha stravinta il Napoli l'ha persa l'ha straversa la Liga l'ha persa l'ha traversa la Juventus ma questa partita questa partita vale più di tre punti decisamente di più di tre punti